Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Ciao ragazzi, benvenuti a mio YouTube channel. In questo video vi mostrerò come fare il battesimo africano. Quindi questa è un'amica, si chiama Queen Ed. Ciao a tutti. È la nostra amica che fa il battesimo di suo figlio, quindi in mondo africano. Vi mostrerò come si fa. Noi, non è un'amica, non è un'amica, non è un'amica, non è un'amica, non è un'amica. Perché questa è un'amica molto importante per noi. Buongiorno a tutti e ci vediamo. My beautiful and amazing viewers and subscribers are down on the side italian. So I just said it's our girlfriend's baby's dedication tomorrow. And I'll be showing you guys how we do it in our church. And hope you enjoy watching right now. I'm going to help her. First of all, this is my friend. She's called Auntie Queen Ed. Auntie Ceccia. Hi, everyone. Good afternoon. I'm going to come every weekend to you home. Ok, brava. Ok, guys. Enjoy watching. And I'll see you tomorrow movie. Bye. 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 Grazie a tutti. 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 E... Yeah... 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 Yeah...